buongiorno a tutti ragazzi siamo di nuovo insieme oggi è un giorno speciale scusatemi se è un po' che non faccio video ora vi faccio vedere come sono messo in officina e poi vi farò vedere in un altro video anche come sono messo in casa ma le storie facendo tutto tant'è vero che ho dovuto anche posticipare il video della scuola di fare di maria sono nel marasma più totale ragazzi tre anni oggi sono tre anni che stiamo insieme che ci conosciamo e che impariamo insieme delle cose nuove un tre anni passati con gioie e dolori quindi tre anni insieme sono tanti abbiamo raggiunto i 36 mila iscritti spero di continuare come stiamo andando adesso che gli iscritti aumentino sempre perché ho sempre più voglia di insegnare a tutti voi quello che so con le mie picche mie sbagli perché come dico sempre chi non sbaglia non è umano per fare le cose bisogna sbagliare quindi questo video è un ringraziamento a tutti ragazzi spero che vi trovate bene nel mio canale parlo anche per i nuovi iscritti spero che vi trovate bene nella scuola di farinaveria parlo per i nuovi abbonati ora come detto venerdì prossimo esce il video della scuola ho dovuto fermarla perché ora vi faccio vedere ragazzi sono veramente ma veramente nei guai non so più da che parte girarmi c'ho l'officina che sembra un magazzino tutto sporco e se vi faccio vedere poi vi farò vedere come detto in un altro video anche a casa mia capirete perché non riesco ora a tenere ritmi che tenevo in precedenza il lavoro mi sta uscendo dalle orecchie meglio perché ho qualche collega che è fermo quindi non mi lamento comunque tre anni ragazzi tre anni insieme auguri a tutti quanti vi lascio con un panorama piccolo perché poi se dell'officina e capite perché diego ora non sta facendo più video ora poi finito il marasmo in officina c'è anche il marasmo a casa che poi vedremo in un altro video quindi un saluto a tutti un in bocca al lupo a tutti un grazie a tutti i nuovi iscritti un grazie a tutti i nuovi abbonati continuate a seguirmi ragazzi perché non sparisco anche ora è un momento veramente veramente complicato per me perché il lavoro è partito alla grande vi lascio con un giro dell'officina così capite un saluto a tutti ci vediamo prossimamente con il video della scuola di farina maria e con impariamo e ripariamo fai da te con nuovi tutorial per continuare a segnarvi quello che so ciao ragazzi questo è quanto guardate e ho portato via il portone di casa mia che a breve monterò e la finestra di casa mia guardate ragazzi guardate come sono messo guardate la macchina guardate come sono messo in officina braghettoni da tutte le parti vi avevo promesso di farvi vedere le porte di castagno montate dietro con la tenda rosa ci sono ancora le porte in castagno tonde vedete sono ancora qua o la settimana prossima dovrei consegnarle ma se giriamo dall'altra parte a parte che mi si è fulminata anche un neon devo cambiare neon guardate qua ragazzi porte 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 da fare vedete sono nel marasma più totale porte anche la guardate non è cattiveria guardate come sono messo e capite guardate il pavimento guardate sopra il banco guardatevi in giro devo dare una sistemata per poi ripartire avete capito perché non sto facendo più video e questo è neanche il 50 per cento del casino che adesso perché se vado a casa il casino da casa è il 110 per cento più grande di quello che è in officina ragazzi un delirio quindi per questo video è tutto auguri di nuovo a tutti quanti e auguri anche a me aspettando momenti più di tranquillità e di ordine vi saluto a tutti ci vediamo alla prossima da Diego ciao ciao